Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di tutto voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re salvatore e rendentore Yahawa Shai. I miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità e come sempre pace alla casa di Israele a coloro che con sincerità cercano la verità e fanno arrivare ai quattro lati della terra questa verità. Shalom. Questa lezione come avevo promesso due lezioni fa che avrei fatto una lezione sulla posizione di una donna nella società e chi sono le donne. Ecco qui dal libro di Genesi è la prima volta che è stata nominata la donna. Leggiamo dal libro di Genesi capitolo 2 versetto 18 che dice Poi Yahawa ai signori disse non è bene che l'uomo sia solo io gli farò un aiuto che sia dato a lui. Perciò come vedete qui il Padre aveva chiarito prima l'uomo ok ma per capire molto meglio tutto quello che è successo nel libro di Genesi Andate a vedere i video che ho fatto in passato sui segreti del libro di Genesi che spiega molto di più. Qui il punto che volevo tirare fuori è che la donna è stata creata per aiutare l'uomo ok? La donna è stata creata per l'uomo. Non è proprio come la società di oggi guidata dai malvagi hanno cambiato la narrativa. Hanno cambiato tutto e hanno messo prima la donna ok? Ma tutto questo andremo a vedere il motivo di tutto questo. Perché loro come sempre come sapete lavorano con l'astuzia ok? E guidano il popolo a perdizione ok? Perché sono un popolo di perdizione. Sono della gente di perdizione la stirpe malvagia che sono i figli di Esau che sono coloro che gestiscono questo regno come la conosciamo oggi. Ora andiamo anche a leggere dal libro di Genesi capitolo 3 e versetto 16. Che dice? Allora come sapete è arrivato il serpente. Anzi leggiamo un po'. Anzi non leggo. Andate a leggerlo bene. E questo serpente di che sta parlando? Ok? Non stava parlando di un serpente reale. Stava parlando di uno. Ok? Sta parlando di un uomo. Ok? Il serpente rappresentava uno astuto. Uno astuto e intelligente. Ok? Erano i figli dei malvagi. Ok? Hanno fatto mangiare la donna. Ok? Del frutto, del male, dell'albero che non dovevano mangiare. E quel frutto sono le filosofie, le conoscenze mondane. Ok? Che il padre non voleva per il suo popolo. Ma per capirne molto di più, io consiglio sempre di andare a vedere il video che ho fatto sul libro di Genesi. Ok? Il punto che voglio tirare fuori qui è che in versetto 16 qui, il padre aveva maledetto la donna, no? E disse, alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Infatti, a giorno d'oggi, con tutta la tecnologia, tutta la conoscenza e tutto il sviluppo che l'umanità ha fatto, non sono ancora riusciti a diminuire il dolore della patologia. Ok? Della gravidanza. Non sono ancora riusciti, allora riuscite a capire che questo è una cosa stabilita dal creatore, padre, Yahweh. Ok? Come è scritto qui. Moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolori pattorirai i figli. I tuoi desideri si rivolgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Ok? La donna è stata creata per essere dominata, ok? Dall'uomo, ok? E non c'è nulla di male, fatto nella maniera giusta, ok? Una donna deve essere sottomessa al suo marito, ok? I nostri padri, Abramo, Isacco, abbiamo visto tutta questa gente qui, Giacobbe, avevano le moglie che erano sottomesse a loro. Ok? Non abbiamo sentito, anzi era una bominia avere una donna che guidava sull'uomo, ok? Ora andremo a vedere altri versetti. Ma voglio ribadire prima, io sono contro il trattamento male. Infatti, gli uomini del padre, Yehovah, Hashem, Yehovah, Shai, non devono trattare male le loro moglie, ok? Le donne non vanno trattate male, ok? Perciò voglio puntare questo prima, perché qualcuno dirà o qualcuno sicuramente si svierà per qualche parola che dirò in questo video qui. E se questo è il caso, vuol dire che non è fatto per ricevere questo messaggio qui, ok? Ora andiamo a leggere nel libro di Primo Timoteo. Primo Timoteo. E sì, sarà tutto basato sul Nuovo Testamento, così la gente non avrà scuse che stai leggendo nell'antichità, ok? Leggiamo tutto dal Nuovo Testamento, capitolo 2, versetto 12, che dice Poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare l'autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Infatti, Adamo fu formato per Primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in transgressione, tuttavia sarà salvata partorendo figli. E quindi si persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Oh, è davvero pesante questo versetto che ho letto, ok? Lo leggo un'altra volta, per chi non ha, per chi non ha, ok, capito. Anzi, leggo da un versetto prima, che dice La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, ok? La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare l'autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Infatti, Adamo fu formato per Primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in transgressione, tuttavia sarà salvata partorendo figli. Si persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Infatti, qui, come leggiamo, la donna deve imparare in silenzio, deve essere in sottomissione, ok? E perché è stato stabilito così? È stato stabilito così perché, anche scientificamente, se guardate, le donne sono esseri emotive, ok? Gli uomini sono esseri razionali, ok? Anzi, andiamo a vedere la differenza tra queste due parole, ok? Emo emotiva, ok? Vedete, la donna è molto emotiva, che vuol dire che cede facilmente alle emozioni ipersensibili, iperimpressionabili, ok? Le donne agiscono con emozioni, sono impressionabili, ok? Anzi, andiamo a vedere di più. Che riguarda e provoca emozioni, ok? E muovere. Le donne reagiscono con l'emozione, il padre non ha a che fare con delle emozioni. Una prova è quella di quando il padre ha detto ad Abramo a sacrificare il suo figlio, Isacco, che era l'unico figlio che aveva. Il padre l'aveva chiesto di sacrificarlo. Se Abramo era uno, ok? Come gli uomini di oggi, che vanno per emozioni, che li rende donna, e loro non lo sanno nemmeno. La prima cosa che diranno è, ma come fa a dirmi di sacrificare il mio primo figlio, l'unico figlio che ho? Come fa a dirmi questa cosa qui? Andranno per emozioni e sicuramente saranno stati sviati. Ma a parte che il padre aveva fatto questo per vedere, per testare Abramo, ok? E quella storia è molto profonda per farvi capire che il padre non ha a che fare con l'emozione. Infatti anche quando diceva ai figli di Israele, andate su questa terra qui, ammazzate sia i uomini, le donne, i bambini e tutto, e non toccate niente dei loro, cioè, loro potevano dire, ah, ma perché ci mandi a fare queste cose qui? I padri non trattano con emozioni come le religioni di oggi, le chiese per prima, stanno facendo diventare delle donne, gli uomini, ok? Ora andiamo a vedere come dovrebbe ragionare un uomo razionale, che dice? Provisto di ragione come facoltà peculiare dell'uomo, avete visto? Relativo alla ragione, ok? In quanto rispondente ha una esigenza di logicità, ok? E questo è quello che ci separa dalla donna, che fa la differenza. L'uomo deve rispondere e agire alla logicità, ok? No con le emozioni come abbiamo letto prima, che ha a che fare con le donne, ok? Sono esseri creati per l'uomo, per rendere completo l'uomo quella parte che non ha, ok? Ma non ha a essere sull'uomo, una donna non può essere mai sull'uomo. Secondo voi perché il padre non ha messo delle ordini che qualche volta fate regnare una donna su di voi? No, non è mai stato così, non sarà mai così nella terra di Israele, ok? Perché le donne, avete visto? Perché le donne vanno per emozioni, allora sono riuscite a cadere, sono state sedute, ok? Perché il serpente non è andato ad Adamo? Perché è andato ad Eva? E' andato perché sapeva che lui era uno che ragiona, ok? Con il coso, con la logicità. Il padre le ha detto di non fare una cosa e lui avrebbe seguito quello. E' andata a lei invece, che lei va per l'emozione. L'ha seduto, l'ha detto, ma no, non è vero che se mangi quello non morirai su serio. Il padre l'ha detto così per farti avere paura, ma se lo mangi diventerai come lui. E lei con le emozioni è caduta, visto che, sì, era un bell'uomo che lo parlava, l'ha seduto ed è caduta. Vedete? Allora, leggo di nuovo questo versetto e torno dietro. Dice, la donna impara in silenzio con noi in sottomissione, poiché non permetterò alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. La mia domanda è, in questa società che stiamo vivendo oggi, vedete succedere questo? No. Infatti abbiamo queste donne possedute nelle posizioni della politica che non fanno altro che buttare fuoco, sempre fuoco, menzogne e essere strumenti di distruzione agli uomini. E, se notate bene, stanno cercando di rendere i uomini come le donne, affinché possano andare per l'emozione. E io ribadisco sempre, sono contro i uomini che alzano le mani su una donna, perché questo non fa parte di quello che deve fare un uomo, ok? Ma la donna deve essere sottomessa, ok? Sottomissione, ok? Infatti stanno cercando di dare, hanno fatto tutto affinché due donne possano sposarsi, affinché possono anche avere un figlio, una figlia, affinché le donne possono tornare ad essere uomini, affinché i uomini possono diventare le donne. Questa è confusione, questo è quello che facevano durante i tempi di Noè, il padre ha dovuto sterminarli e anche noi siamo arrivati a quel punto, però, ok? Che non manca più tanto per coloro che pensano che saranno qui per sempre, ok? Ora andiamo a leggere dal libro di Primo Corinzi. Primo Corinzi. Capitolo 11 Leggiamo dal versetto 3 Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Yahawashai, il Mashiach, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Yahawashai è il padre Yahawah, ok? C'è una gerarchia, tutte queste cose qui. Il padre è il numero uno, il padre Yahawah, sotto di lui c'è Yahawashai, ok? E sotto Yahawashai ci sono tutti i uomini e sotto i uomini ci sono le donne. Una donna non può scavalcare, non può essere venerata come va venerata oggi, ok? Una donna non può essere messa sopra l'uomo, è un abominio, ok? Queste sono le stabilizzazioni del padre, ok? E andiamo avanti a leggere. Ogni uomo, anzi, vediamo. E voglio, allora vi consiglio di andare, deve continuare, leggete questo libro qui che ha un sacco di informazioni, leggete tutto, ok? Leggete tutto, perché ne ho tante, ho tanto da farvi vedere. Volevo anche toccare su qualcosa che ho messo a parte su Wikipedia, ok? Una scoperta che ho fatto appena adesso. E andiamo avanti, leggiamo dal libro di Efessini, capitolo 5, versetto 22. Che dice, Moli, siate sottomessi ai vostri mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie. Come anche Yahawashai è capo della Chiesa, che siamo i uomini, ok? La Chiesa, vedete che il nostro corpo è il Tempio del Padre, ok? Prima aveva detto l'uomo, ora dice la Chiesa. Vedete che la Chiesa non ha a che fare con le strutture che vedete oggi. Sta parlando di noi uomini, siamo la Chiesa, il nostro corpo è il Tempio del Padre, dove il suo spirito risiede. Non ho già fatto altri video nel passato. Ora torno a leggere. Moli, siate sottomessi ai vostri mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Yahawashai, è capo dei uomini, della Chiesa. Lui, che è il Salvatore del corpo, ok? Ora, come la Chiesa, che sono i nuovi uomini, è sottomessa a Yahawashai, così anche le moglie devono essere sottomessi ai loro mariti in ogni cosa, ok? Comunque, ci è stato comandato che i mariti, amate le vostre moglie, come anche Yahawashai, ha amato la Chiesa, che sono i uomini, e ha dato se stesso per lei, ok? Ha dato se stesso per noi, affinché possiamo avere questa conoscenza, ok? Perciò, vedete, nelle scritture è sempre scritto che le donne devono essere sottomessi ai uomini, e mai devono essere sopra i uomini, ok? Il padre ha a che fare con un bilancio giusto, non un bilancio sballato, ok? C'è un ordine, deve essere un ordine a tutto, ok? Ma i figli dei malvagi, i figli di Esaù, ci stanno cambiando tutto e fanno sballando tutto, ok? Ora andiamo a leggere dal libro di 1 Pietro, 1 Pietro, capitolo 3, leggiamo il primo versetto. Anche voi mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettere, mettersi addosso gioielli. Comunque andate a leggere, perdonate come leggo adesso, perché non so, le parole non mi vengono fluidi. Perciò andate a leggere, comunque. Così, infatti, si onnavano una volta le sante donne che speravano in Yahava, restando sottomessi ai loro mariti, ok? Questo era Pietro che insegnava, ok, ai figli di Israele che erano diventati come quelli delle altre nazioni, portati in schiavitù, nati su altre nazioni, gli spiegava come dovevano trattare i loro mogli, ok? Perciò vedete sempre, le mogli devono essere sottomessi ai loro mariti, ok? Andiamo a leggere dal libro di Primo Corinzi. Avevo letto prima questo? No. Primo Corinzi, capitolo 14, e versetto 34. Che dice? Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, stiano sottomessi, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblee, ok? Questo è chiaro ed è profondo, ma stiamo facendo il contrario. Nelle chiese vedete le donne sul podio, sono loro che insegnano ai uomini, e questo dà una bocciatura a tutte le chiese, tutte le chiese, dà una bocciatura a tutte le chiese. Non mi ne frega quale chiesa, chiesa dei mormoni, chiesa di Geova, chiesa cattolica, tutte le chiese battista, le donne insegnano a lei, ok? Che non dovrebbe essere. Avete visto? Ok? E ora leggo dal libro di Colosseo, che è l'ultimo versetto che leggo, poi andiamo a vedere qualcosa molto importante. Colosseo capitolo 3 versetto 18 Ed è questo come deve essere, ok? I uomini non devono trattare male le loro mogli, ok? Che i padri non vogliono questo, ma le mogli devono essere sottomessi ai loro mariti. Se vogliono imparare qualcosa, devono chiedere dai loro mariti. Perché? Le donne hanno a che fare con la parte emotiva, ok? Che i padri non tratta con l'emozione. Infatti c'è il versetto che dice che i peccatori, anche uomini e femminiti, non entreranno nel regno del padre. Nella società di oggi, tutti gli uomini sono diventati quasi, tutti diventati delle donne, ok? Sono diventati tutti delle donne, ok? E mettono la donna sul podio, la venerano. Infatti, adesso che sta arrivando il periodo dei pagani, il periodo natalizia, ok? È tutto per adorare la donna, ok? Adorazioni della donna. Ma quello che non sanno, loro credono di adorare la Maria, che nelle scritture non c'è nessuna parte dove c'è scritto di adorare Maria, ok? che si sta andando sempre sbagliato. E non me ne frega che religione è. Tutte le religioni, anche l'Islam, loro adorano la Fatima e cosa là, che è la stessa cosa. E dopo, adesso, vi porto a farvi vedere le radici di tutto questo. Allora, se voi scrivete Regina dei Cieli, ok? Anzi, prima andiamo e scriviamo Regina, perdonatemi, Regina del Cielo, ok? Immagini. E le prime cose che vedete sono le immagini di Maria, ok? Immagini di Maria. Tutte le immagini che vedete sono le immagini del così chiamato Maria, ok? Che è un'abominazione prima, ok? Noi non dovremo venerare nessuna donna, nemmeno la madre di Yahawasai. Non ci è stato comandato quello, ok? E se voi andate a scrivere su Wikipedia Regina dei Cieli, che è la Maria, leggiamo Regina dei Cieli è uno dei titoli che nell'antichità venero attribuiti a numerose divinità femminili nel vicino oriente e nel bacino del medio mediterraneo, ok? Le forme e il contesto di questo tipo di venerazioni furono varie. In particolare si possono ricordare tra le varie divinità che assunzero questo titolo Anath, Iside, Anana, Asarte e Ashera. Dopo torneremo a questi, ok? Come attesta il profeta Geremia nella Bibbia. Nelle più tardi religioni greche fu Era un attribuissi questo titolo. Un altro su attribuiti era che il cielo stellato era il volto di Era e quindi preso la religione romana. Loro vi dicono la verità nascondendolo in una maniera mettendo una sorta di velo. Bisogna avere lo spirito e qui vi stanno dicendo comunque che la religione romana è nata da quello greco, ok? Perciò la religione romana della sua corrispondenza giunone. Nella religione norena la regina del cielo fu Frigg, ok? Nel cattolicesimo romana il titolo di regina dei cieli venne quindi eredata da Maria Regina. Allora vedete come girano queste cose qui che è la stessa cosa loro stanno adorando tutti questi dei che avete visto scritti qua, ok? E qui non ci sono più altre informazioni ma ecco torniamo a vedere, ok? Chi è questa così chiamata Maria Regina? Se toccate la Maria Regina quello che vedete sono queste immagini, no? Della Maria Regina Maria Regina, ok? Maria Regina, ok? E ricordatevi comunque che prima di essere data il nome della regina Maria Regina questi erano ok? Annat andiamo a vedere Annat vedete? Questa è la Maria Regina vedete? Era una dei pagana antica ok? Per non andare per non perdere troppo tempo perché coloro che devono ricevere queste andiamo a vedere in sede in sede vedete? Questa è la così chiamata Maria Regina vedete come vi ingannano ok? Vi fanno adorare diversi dei antichi con inganno con inganno ok? Andiamo dietro andiamo a vedere Inanna questa è la dei Inanna avete visto? queste sono le cose che vi fanno adorare dei demoni ok? le cose antiche vedete? vedete? non ha nulla a che fare con la vera divinità con la vera persona ok? andiamo a vedere Astarte Astarte che vedete? è una dea greca vedete vedete con l'occhio che vede tutto ed è questo che hanno dato il nome di esta ista ok? ai cristiani per fare il periodo di Pasqua ok? che non ha nulla a che fare con quel periodo là ok? ma era tutto per venerare questa dea qui ok? andiamo a vedere nell'era religione romana Giunione vediamo Giunione vedete? questa è la così chiamata Maria che credete di adorare una prostituta una dea prostituta ok? andate a leggere di più ok? vedete? una dea prostituta ok? tutto questo è abominazione andiamo a vedere la frig ok? vedete? questa è la frig una dea antica ok? noi non dobbiamo venerare tutti questi dei qui la dea dei fiori e poi dopo gli è stata data il nome di Maria Regina ok? eccola qui io spero che questa lezione vi ha edificato vi ha aperto gli occhi vi ha fatto capire la posizione di una donna perché oggi anche nei video musicali che vedete tutti questi artisti qui tutto quello che fanno è la venerazione della donna ok? mettono sul podio la donna sull'uomo e non c'è niente di male ma il padre non ha stabilito queste cose così come abbiamo letto prima le donne devono essere sottomesse al padre e all'uomo ok? devono stare zitti e imparare dall'uomo ok? e tutto questo che avete queste pazzie che le donne siano presidenti tipo Germania e altri paesi sono abomini ok? sono degli abomini ok? io spero che questa lezione vi ha edificato e riuscite a ricevere proprio quello che sto che vi voglio comunicare ok? spero che il padre vi possa illuminare affinché potete accettare questi messaggi e metterli in pratica figli di Israele il tempo è breve svegliatevi ok? svegliatevi il tempo è breve il tempo è corto ok? le cose stanno muovendo velocemente come ha promesso il padre ok? e siamo proprio alle porte del nuovo regno solo che questi tempi saranno davvero duri teniamoci forte non prendete i V ok? i V ucciderà i generi di Dio che avete dentro ok? i V non fa per voi perché vi farà prendere il marchio della bestia che è sono i microchip che avverranno dopo questa è solamente la prima fase ok? detto questo spero siete stati edificati lascio tutto questo nel sacro nome del padre Yahweh nel nome di suo figlio